Ciao ragazzi, oggi parliamo di epica medievale e nello specifico della chanson de Roland, cioè della canzone di Rolando o Orlando. Si tratta di epica cavalleresca perché ha come protagonisti cavalieri come Rolando per l'appunto, che era un vassallo di Carlo Magno. Quando si fa riferimento a questo tipo di epica si parla di canzoni di gesta perché si tratta di poemi che celebrano le gesta di eroi cavalieri e le loro imprese. In questo caso vengono celebrate le imprese di questo Rolando, paladino di Carlo Magno. Ci sono però diversi filoni dell'epica medievale che vengono detti cicli, un ciclo comprende tutte le opere che trattano della stessa materia. In questo caso si tratta del ciclo carolingio che è quello incentrato sul Carlo Magno e sulle imprese sue e dei suoi paladini. C'è però un altro importante ciclo nel Medioevo che è quello bretoni, che ha a che fare con Re Artù e con i Cavaliere della Tavola Rotonda. Queste opere scritte in volgare venivano chiamate romanzi e avevano come tema centrale l'amore, come nelle vicende di Lancillotto e di Ginevra o di Trestano e Isotta. L'autore più importante di questo tipo di romanzi è vissuto in Francia e si chiama Chrétien de Troyes. Ma torniamo ora alla Chanson de Roland, che fa invece parte del ciclo carolingio ed è una delle opere più importanti della letteratura medievale francese. Essa è composta da 4.200 versi decasillabi che corrispondono praticamente all'endecasillabo italiano. Questi versi sono raggruppati in strofe che però hanno diversa lunghezza e sono dette l'asse. Il poema si basa su un fatto storico che voi conoscete bene perché l'abbiamo studiato quest'anno ed è la battaglia di Roncisvalle nel 778 d.C. Questa battaglia fu combattuta da Carlo Magno che tentava di espandersi verso la Spagna oltre i Pirenei. L'esercito franco però fu clamorosamente distrutto dai baschi che nella Chanson de Roland vengono chiamati Saraceni. Questa battaglia ebbe un fortissimo eco poiché fu combattuta dai cristiani contro gli infedeli. In effetti la Chanson de Roland viene scritta nell'undicesimo secolo che è il secolo in cui hanno inizio le crociate. Una particolarità di quest'opera è che non conosciamo il suo autore che è anonimo. Vediamo ora brevemente la trama della Chanson de Roland. Tutto inizia con l'assedio della città di Saragozza da parte di Carlo Magno. Questo assedio dura ormai da parecchio tempo e il re musulmano di nome Marzilio vuole farlo cessare e decide perciò di mandare degli ambasciatori da Carlo. Carlo convoca i suoi cavalieri per discutere ciò che ha chiesto Marzilio e viene scelto come ambasciatore di Carlo Magno Gano su consiglio anche di Rolando. Gano in realtà non vorrebbe questo incarico e pensa che Rolando abbia suggerito di mandare lui per liberarsi di lui in effetti. Quindi quando Gano giunge presso Marzilio riesce a conquistare la fiducia del re musulmano e tradisce Carlo Magno. Gano infatti prepara con Marzilio una vera e propria imboscata contro l'esercito di Carlo Magno. Marzilio quindi aggredisce la retroguardia di Carlo Magno. La retroguardia sarebbe quella parte dell'esercito che rimane in coda. Quando un altro cavaliere, Olivieri, vede l'esercito dei Saraceni avvicinarsi dice a Rolando di suonare l'orifante, cioè il corno, per richiamare l'esercito di Carlo Magno. Ma Rolando è molto orgoglioso e quindi rifiuta di farlo e di chiedere aiuto. C'è quindi una battaglia fra la retroguardia dell'esercito Franco e i Saraceni e i franchi vengono sopraffatti. A questo punto, quando si rende conto che la vittoria è impossibile, Rolando cede e suona finalmente l'orifante per richiamare Carlo. Però Rolando muore combattendo. Vediamo ora proprio questo episodio, l'episodio della morte di Rolando. Ho lasciato la divisione in strofe con la loro numerazione e vedrete che non ci saranno tutte le strofe, ma faremo dei salti, come nel vostro libro. Rolando nobilmente si difende, ma il corpo è molle di sudore e ardente. Sente al capo dolore e grande male. Suonando il corno si è rotta la tempia, ma vuol sapere se Carlo verrà. Prende il corno, lo suona debolmente. L'imperatore si arresta, l'ascolta. Signore, disse, sventura per noi. Rolando, mio nipote, oggi ci lascia. Odo dal corno che poco vivrà, chi vuole raggiungerlo in fretta cavalchi, suonate tutte le trombe che avete. Sessantamila trombe insieme suonano, ne riecheggiano i monti e le vallate, le sentono i pagani e non ne ridono. L'un dice all'altro, Carlo sarà qui. Questo episodio si inserisce proprio nel momento in cui Rolando si rende conto che non c'è più alcuna speranza di vittoria e quindi cerca l'aiuto del resto dell'esercito di Carlo Magno. Rolando si difende nobilmente, come vediamo nel primo verso, ma ormai è stanco, il corpo è molle di sudore, è ardente. E al capo, alla testa, sente un grande dolore, perché ci dice l'autore, che è anonimo, la tempia addirittura si è arrotta suonando il corno. Cioè ha suonato il corno con talmente tanto fervore da non poterne più. Ma vuol sapere se Carlo verrà? Prende il corno e lo suona debolmente. Questo corno è l'olifante, che era un tipo di corno utilizzato nel Medioevo, che era realizzato con una zanna di elefante. L'imperatore si ferma e ascolta il suono di questo corno, parla con i suoi sottoposti e dice che per loro è arrivato un momento sventurato, sfortunato. Infatti Rolando li sta lasciando, cioè sta morendo. Infatti l'imperatore capisce che dal suono del corno che Rolando è vicino alla morte. Chi vuol raggiungerlo cavalchi in fretta, dice ai suoi cavalieri, e dice di suonare tutte le trombe che hanno. Così 60.000 trombe iniziano a suonare insieme, a far riecheggiare i monti e le vallate. Anche i pagani sentono il suono delle trombe dell'esercito franco e non ne ridono perché in effetti sono preoccupati. L'uno dice all'altro, Carlo sarà qui. Temono infatti che arrivi il grosso dell'esercito franco. Rolando sente la morte vicina, gli esce fuori il cervello dagli orecchi, prega Dio che egli accolga i suoi compagni e per sé prega l'angelo Gabriele. Prese il corno che Biasimo non abbia, con l'altra mano Durendal, la spada. Per poco più di un tratto di balestra, cammina verso Spagna in mezzo a un prato. Sale su un colle, sotto due begli alberi, quattro massi vi sono, duro marmo. Sull'erba verde è caduto riverso e sviene, che la morte gli avvicina. Rolando sente la morte vicina. Come vedremo, questo Rolando sente l'inizio di molte strofe. È una sorta di verso formulare, come abbiamo trovato anche nell'epica classica. Il cervello gli esce fuori dalle orecchie e prega Dio che accolga i suoi compagni e prega anche per sé, prega l'angelo Gabriele. Poi prese il corno che Biasimo non abbia. Qui si intende che Rolando non vuole essere criticato, non vuole essere disonorato, quindi spera che questo corno e la sua spada non cadano nelle mani dei saraceni. Infatti con l'altra mano prende proprio Durendal, che è il nome della sua spada. Poi cammina verso la Spagna in mezzo a un prato. Per poco più di un tratto di balestra, cioè per un tratto poco più lungo, di quello che potrebbe percorrere una freccia lanciata da una balestra, che è questo tipo di arma, che vedete nell'immagine. Sale su un colle e sotto due begli alberi ci sono quattro massi, duro marmo, quindi sono di pietra molto dura. Rolando cade in riverso sull'erba verde e sviene, perché sta per morire, la morte gli avvicina. Sente Rolando che ha perso la vista, si rizza in piedi, quanto può si sforza, sul suo viso ha perduto il suo colore. Davanti a lui ci sta una pietra bruna, con pena ed ira batte dieci colpi, stride l'acciaio, non si frangio in tacca. Santa Maria, soccorrimi, egli disse, Ma la fortuna aveste, Durendal, perché muoio, di voi non ho più cura. Tante battaglie in campo aperto ho vinto e tante vaste terre conquistate, che tiene Carlo, che ha la barba bianca. Non vabbia chi davanti ha un altro fugga. Un buon vassallo a lungo vi ha tenuta? Non vi sarà l'uguale in Francia Santa. E di nuovo troviamo questo sente Rolando. E Rolando questa volta sente che ha perso la vista, si alza in piedi e si sforza quanto più può. Sul suo viso però ha perduto il suo colore. E davanti a lui c'è una pietra bruna, e su questa pietra Rolando batte dieci colpi con la spada, e stride l'acciaio, non si frange o intacca. Quindi si sente solo il rumore dell'acciaio contro la pietra, ma alla spada non accade nulla. E anche questo verso lo ritroveremo simile più avanti. Si tratta anche qui di una formula, di un verso formulare. E a questo punto Rolando parla, invoca Maria, Santa Maria, gli chiede di soccorrerlo. E poi parla proprio con la sua spada, e dice a Durendal che ha avuto sfortuna, cioè mala fortuna. Perché ha avuto sfortuna Durendal? Perché muoio, dice Rolando, e non potrò più curarmi di voi, quindi non potrà più curare la sua spada. Ricorda poi le tante battaglie che ha vinto, e le terre conquistate, e quelle terre che ora tiene Carlo, che ora possiede Carlo Magno, che ha la barba bianca. E ancora si rivolge a Durendal, e dice, non vabbia chi davanti a un altro fugga. Chi davanti a un altro fugga sarebbe un codardo, colui che fugge di fronte al pericolo. Quindi, che non vabbia un codardo, dice Rolando. Vi ha tenuto a lungo un buon vassallo. Un vassallo tanto valoroso, che non vi sarà uno uguale a lui, nella Francia Santa. Quindi, come potete vedere, Rolando non si sottovaluta, egli rispecchia le caratteristiche del buon cavaliere, che è coraggioso, e pone l'onore di fronte a tutto. Poi sul masso battè di Cerritania. Stride l'acciaio, non si spezza o intacca, e quando vede che non può spezzarla, incomincia a dolersi nel suo cuore. Ah, Durendal, sei bella e chiara e bianca, come riluce e splendi contro il sole. Carlo era nelle valli di Moriana, e Dio gli mandò un angelo dal cielo, perché ti desse ad uno dei suoi conti. A me la cinse il re gentile, il grande. Con essa conquistai terre e paesi, che tiene Carlo, che ha la barba bianca. Per questa spada sento pene e angoscia. Meglio morire che darla ai pagani. Non date a Francia, Dio padre, quest'onta. Rolando continua a sbattere la spada sul masso, sul masso di Cerritania, che è la regione dei Pirenei, dove Rolando si trova. E di nuovo stride l'acciaio, non si spezza o intacca. Quindi Rolando vorrebbe distruggere questa spada, perché non cada nelle mani dei Saraceni. Ma non ci riesce. E quando vede che non può spezzarla, incomincia a dolersi nel suo cuore. Quindi è molto triste per il fatto di dover lasciare la sua spada, probabilmente in mano agli infedeli. E si rivolge di nuovo alla spada stessa. E dice, ah Durendal, sei bella, sei chiara e bianca, come le luci e splendi contro il sole. E racconta come ha avuto questa spada. Dice che Carlo si trovava nelle valle di Moriana e Dio gli aveva mandato un angelo dal cielo, perché desse la spada a Durendal ad uno dei suoi conti, ad uno dei suoi vassalli. E Carlo Magno scelse di darla proprio a Rolando. E con essa Rolando conquistò terre e paesi, quei paesi che ora possiede Carlo, che era barba bianca. Per questa spada, dice Rolando, sento pene e angoscia. Meglio morire che darla ai pagani, agli infedeli. E dice poi, non date a Francia, Dio padre, quest'onta. Egli si rivolge quindi a Dio e gli chiede di non dare alla Francia quest'onta, cioè questa vergogna, questo disonore di far cadere, per l'appunto, la spada di Rolando in mano ai musulmani. Sente Rolando che morte lo prende, giù dalla testa gli discende al cuore, se ne è andato correndo sotto un pino, sull'erba si è disteso, il volto a terra, sotto di sé pone la spada e il corno. Volse la testa alla gente pagana, e per questo l'ha fatto, perché vuole che dica Carlo e tutta la sua gente, nobile conte, è morto vittorioso. Egli dice più volte la sua colpa, per i peccati a Dio tende il suo guanto. Di nuovo abbiamo questo sente Rolando, e Rolando sente che la morte lo sta prendendo e che discende dalla testa verso il cuore. Se ne è andato correndo sotto un pino e si è disteso sull'erba con il volto a terra e ha nascosto sotto di sé la spada e il corno. E Rolando qui fa un gesto, cioè decide di volgere la testa verso i nemici, verso i saraceni, che qui vengono chiamati gente pagana. E l'ha fatto perché vuole che Carlo e tutta la sua gente, quindi tutto l'esercito di Carlo Magno, dicano che il nobile conte, quindi Rolando, è morto vittorioso, cioè guardando in faccia il nemico. Quindi Rolando si confessa più volte, confessa i suoi peccati a Dio e tende il suo guanto, quindi la sua mano, verso il cielo alla divinità. Rolando il conte giacque sotto un pino, verso la Spagna rivolte il suo viso, di molte cose lo prese il ricordo, di tante terre che vinse da prode, di dolce Francia, di sua chiara stirpe, di Carlo Magno, il re che l'ha allevato. Trattenere non può pianto e sospiri, ma di sé stesso non vuole scordarsi, dice sua colpa e chiede grazie a Dio. Quindi Rolando ormai è disteso sotto un pino con il volto rivolto verso la Spagna e comincia a ricordare molte cose della sua vita e delle terre che ha conquistato, della sua patria, della Francia, della sua stirpe di Carlo Magno, il re che l'ha allevato. Non può trattenere il pianto e i sospiri, ma non vuole scordarsi di sé stesso, cioè non vuole dimenticare di confessare i suoi peccati e di chiedere grazie a Dio. Infatti una caratteristica del cavaliere medievale è anche la sua fede incrollabile. Morto è Rolando, l'anima è nei cieli, l'imperatore giunge a Roncesvalle, non c'è più strada, non c'è più sentiero, non c'è più terra, né un braccio né un piede dove non sia un francese o un pagano, grida il re. Dove siete, bel nipote? Dov'è il vescovo, il conto Livieri? Dove i dodici pari che ho lasciato? Che vale mai se nessuno risponde? Si tormenta la barba, desolato, piangono i suoi valenti cavalieri. A questo punto Rolando è ormai morto e la sua anima è salita nel cielo verso Dio. L'imperatore raggiunge finalmente Roncesvalle dove ha avuto luogo la battaglia e non c'è più strada, non c'è più sentiero, né terra, né un braccio, né un piede, quindi non c'è nessun luogo dove non ci sia un francese o un pagano. Quindi la battaglia sta in realtà ancora imperversando. Ci sono soldati degli eserciti da entrambe le parti. Il re grida chiamando Rolando, chiede dove siete, bel nipote? Dov'è il vescovo, il conto Livieri, che era quello che aveva consigliato a Rolando di suonare il corno inizialmente? Dove sono i dodici pari, i cavalieri che ho lasciato? Che vale mai se nessuno risponde? Quindi Carlo Magno si sta disperando perché si rende conto di aver perduto moltissimi dei suoi cavalieri e si tormenta la barba, desolato, e piangono anche i suoi valenti cavalieri, valenti cioè coraggiosi. Dopo la morte di Rolando, la battaglia continua, e a differenza di quello che è successo realmente nella storia in cui è stata una sconfitta clamorosa, nel chanson de Rolando, Carlo Magno riesce a sconfiggere le truppe di Marsilio e poi decide di dare una degna sepoltura ai suoi cavalieri e soprattutto a Rolando. C'è però un colpo di scena, cioè in aiuto di Marsilio arriva un nuovo personaggio, l'emiro di Babilonia, Baligant, con un esercito gigantesco. Carlo però riesce comunque di nuovo a vincere e addirittura riesce a conquistare la città di Saragozza che aveva a lungo assediato. Infine, tornato in Francia, Carlo fa sì che Gano venga processato e poi condannato a morte. E così si conclude la chanson de Rolando che era iniziata proprio con il tradimento di questo personaggio, Gano. La lezione è finita. A presto ragazzi! Grazie!